In questa lezione personalizzeremo il progetto trailer creato in precedenza, inserendo i contenuti video e testuali. Nella sezione dove di solito creiamo il montaggio, ora visualizziamo una procedura guidata che ci condurrà fino al completamento del progetto. Iniziamo dalla sezione scheda. Le informazioni richieste saranno utilizzate per personalizzare in automatico i titoli presenti nel filmato. Inseriamo il nome del filmato. Una giornata indimenticabile. Nome del gruppo. Inseriamo Teacher in a Box. Data di uscita mettiamo febbraio 2012. Posizione iniziale metteremo Villafranca. Posizione finale Bormio. Bormio non è presente nell'elenco delle città da visualizzare sulla mappa. Quindi andremo a scegliere una città vicina. In questo caso mettiamo Sondrio. E poi gli diremo al programma di visualizzare comunque Bormio. E premiamo OK. Spostiamoci nella seconda sezione. Nella seconda sezione troveremo il cast. Il cast in questo caso sarà di due persone. In questo trailer possiamo scegliere tra un minimo di due e un massimo di sei. Nome del cast metteremo Guido, sesso maschile. E il secondo, Sam, sesso femminile. Spostiamoci nella successiva sezione dove metteremo il nome dello studio. Lasciamo Teacher in a Box. Stile del logo. Praticamente qui possiamo scegliere tra sé tipologie di loghi e di conseguenza di animazioni iniziali. Possiamo lavorare su uno sfondo nero oppure utilizzare la montagna innevata piuttosto che la piramide radiosa. In questo caso scegliamo Terra Rotante. Infine, nell'ultima sezione, andremo a mettere il nome delle persone che sono state riprese e le associeremo in maniera simpatica a dei ruoli che solitamente si hanno all'interno di un film e che poi verrà visualizzato nei titoli di coda. Quindi mettiamo Rossella, soggetto di Anna, Annalisa, Giulia, Paolo, Vladimir. A questo punto la scheda è completata. Ci spostiamo ora nella parte Storyboard dove andremo a trascinare le nostre clip. Qui troviamo la storia. Un alternarsi di titoli e filmati segnaposto che andranno sostituiti con il nostro girato e che ci suggeriranno il tipo di inquadratura più adatta da inserire. Trasciniamo le clip dalla libreria Eventi sopra il segnaposto. In questa fase può tornare comodo attivare la visualizzazione Filtro per parola chiave che ci permetterà di filtrare i video per tipo di inquadratura se in precedenza abbiamo fatto analizzare da eMovie i video o per parola chiave se le abbiamo inserite. Attiviamo il filtro e chiediamo al programma di visualizzarci solo le immagini panoramiche e seleziono. Dopodiché andiamo nella sezione Io, dove ho la mia inquadratura e vado a inserire un altro filmato. Spostiamoci in basso e andiamo a riempire la sezione Azioni. Quindi scegliamo Salti e andiamo a prendere una parte di immagini con i salti. E così via. Andremo piano piano a completare tutti e a sostituire tutti i segni a posto. Attenzione alla durata della selezione che stiamo trascinando. Le clip hanno una durata fissa, quindi se stiamo trascinando un pezzo di video più lungo il programma lo taglierà in automatico. Andando sopra la clip e premendo l'icona in basso a sinistra possiamo però regolare correttamente la parte di clip da utilizzare. Premiamo Fine ed ora, spostandoci con il puntatore lungo la parte dello storyboard possiamo avere un'anteprima immediata di come sta avvenendo il nostro trailer. Nell'ultima sezione abbiamo l'elenco di tutte le riprese inserite divise per tipologia di inquadratura ma questi naturalmente sono solo dei suggerimenti. Quindi anche qui vado a selezionare il filtro in maniera tale da apparire solamente io seleziono la scena e la vado ad inserire. Una volta inserito l'ultimo filmato siamo pronti per vedere in anteprima come è venuto. Premiamo il tasto Play e gustiamoci il filmato. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.